Notate il palo cefrale dell'offricione dei Bolliti? Che cos'è? Una protesi che è la ferita tutta questa serata. Bolliti, Piemontesi e poi il capitano della Vombardia Antonio Rossi è ragionato come assessore regionale a noi lo ricordiamo come grande canzone del Pia di Barcelona 92 fino a Pia 2008, quarto bandiera dell'Italia, tre ori, un argento, un bronzo tra un'inviata dell'alba, riportato nell'affarello, anche tre mondiali nel K2, tre armenti e una bronza, allora Ecco qui Piemonte con gli amici di Acquasport, Marco Bentagoni che vuole atletica Riccardo Bagalini a 3.5G e la stupenda Daniela Soffiato, amica di Acquasport nella scherma E poi dopo il cartello di Piemonte che arriva la Lombardia preparata da Antonio Rossi, eccoli qui Sta già arrivando il Veneto con Riccardo Pichis, grande ruotamento del basket italiano con Milano, con Piemonte con la nazionale, sette sudetti, sei golpe italia, tre suddolpe italiane due golpe dei garbioni, una coracce, un intercontinentale ma soprattutto un grande amico di Acquasport, salutiamo anche il Veneto eccoli qua Veneto si chiamano i tiramisù, eccolo qua il leggendario tiramisù bravissimo con Sara Lapria per il nuoto e Margherita Borsoi con il fushu, arti marziali Futuro attuato di Acquasport anche Niccolò Mascheroni con lo sci Arriva qui per Friguli con il suo capitano Cristian Ghietina, storico dico di Arcosport, decisista italiano di Vittorio con la storia della Coppa del Mondo DC tre medagli mondiali, 33 cose in Coppa del Mondo un sacco di medaglie, sempre in grande forma, un grande chego complimenti, eccola qua la squadra del triun con i fachitalini di Arcosport che portati direttamente a loro con Gerardo Benvenuti